Al Via Castelfidardo, la terza edizione del Wow Folk Festival che fino a domenica 26 maggio animerà il centro storico con concerti e spettacoli di danza. Questa terza edizione avrà nelle tradizionali location del centro storico il suo cuore, ma si espanderà anche nei quartieri grazie alla riscoperta del Canta Maggio domenica 26. Quest'anno da come abbiamo messo anche sui comunicati stampa un festival esplosivo ed inclusivo. È una sfida che ogni anno proponiamo portando comunque sempre artisti di altissimo livello internazionale che facciano vibrare la piazza, che facciano ballare la piazza. Ad aprire il cartellone venerdì 24 maggio il quintetto Ayom, nato dall'Unione dei Forromi Ore e della cantante afro-brasiliana Habu Morales, che inonderà a Piazza della Repubblica con sonorità brasiliane contaminate da ritmi della diaspora africana e influenze melodiche del Mediterraneo, mentre sabato 25 sarà l'insegna dei ritmi tangheri con artisti ospiti dall'Argentina. Quest'anno abbiamo la fortuna di poter avere la Wanda Rienzo, una delle orchestre tipiche più note al mondo. Assieme a loro saranno presenti anche due ballerini, Adriano Mauriello e Flamina Candelori, due importanti mestri di tango. Oltre all'associazione L'Oltre Tango, che è un'associazione che si occupa di tangoterapia, verranno anche i campioni europei parolimpionici, quindi come dire, ci sarà davvero un pulpori di artisti che renderanno questa serata speciale.